Mimmi guarda un po cos'è questo guarda guarda cos'è? cos'è questo? cos'è? cos'è? Mimmi cos'è? Mimmi vieni vieni che te lo metto in testa Mimmi vieni scendi 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 però non se lo fa mettere in testa secondo me no 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 e mi vai ecco il cappellino mio il cappellino è un cappellone no 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 il cappello si il cappello fa un messaggino il cappello fa un messaggino e gli piace il cappello ti piace il cappello ti piace il cappello ti piace il cappello il cappello il cappello è il cappello ai miei miei eh? eh? si però adesso te lo devi mettere in testa però questo è troppo grande mi piace. Mimmi esci dal cappello Che è? Che è successo? Che c'è sopra, Mimmi? Mimmi? Mimmi mi sta odiando Mimmi Mimmi Ma non lo senti il cappello? Non lo senti il cappello? Mimmi È Mimmi con il cappellino È Mimmi No, 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 stai giù, stai giù Ecco, gira di qua Mimmi Che c'è?